Si innamora della badante e diventa così insistente da costringela ad allontanarsi. Poi, in un incontro chiarificatore, la schiaffeggia violentemente. È accaduto a Fano, protagonisti della vicenda un settantenne pugliesi di una cinquantenne del posto. L'uomo, che è stato denunciato dalla polizia, fin da subito avrebbe cercato di convincere la donna a trasferirsi nella sua abitazione, prospettando elevati compensi e regali. La badante però si era mostrata restia. A quel punto l'anziano avrebbe così cominciato a pressarla, anche con sms con crescente intensità, fino a rivelarle di essersi innamorato di lei e a proporle esplicitamente di compiere atti sessuali. La donna ha subito interrotto il rapporto di lavoro appena iniziato, ma il settantenne non si è dato per vinto e ha proposto un incontro per chiarire la situazione, che per la vittima si è rivelato un incubo. È stata presa a schiaffi e trattenuta dall'anziano, che le ha poi strappato il telefonino con cui stava cercando di chiedere aiuto. Alla fine è riuscita a divincolarsi e a scappare. Al pronto soccorso le sono stati diagnosticati cinque giorni di prognosi per le contusioni riportate. Il settantenne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per lesioni personali e percosse.